GF VIP, il segreto shock di Daniele Bossari, mi facevo schifo VinZuiden Gossip Grande Fratello VIP, Daniele Bossari racconta il suo dramma segreto Daniele Bossari si racconta a cuore aperto all'interno della casa del Grande Fratello VIP 2017 e a pochi giorni dalla messa in onda della finalissima del 4 dicembre, ha svelato al pubblico il segreto che per tutto questo tempo ha tenuto nascosto un episodio del passato che lo ha fatto tanto soffrire e che ha portato Daniele sull'orlo dell'esasperazione, così come ha raccontato lui stesso in confessionale nel corso di queste ore. GF VIP, la confessione shock di Daniele Bossari, avevo cominciato a bere Le gossip news su GFV privelano che Daniele ha raccontato il segreto shock riguardante il suo passato lavorativo, quando il telefono non squillava più e non arrivavano più proposte televisive oppure radiofoniche Un vero e proprio dramma per il finalista di questa seconda edizione del reality show il quale ha raccontato che nessuno più lo cercava ed era autoconvinto di non essere più accettato da quello stesso mondo che aveva sempre inseguito e per il quale aveva fatto di tutto pur di riuscirne a farne parte E così cancelletto Daniele Bossari ha svelato che in quel periodo sprofondò nel baratro totale e comincò a bere tantissimo, al punto da farsi del male da solo Ero offuscato, mi sentivo smarrito, perduto e mi facevo schifo, ha raccontato con le lacrime agli occhi il concorrente del grande fratello VIP Io mi stavo autodistruggendo. Mi sono staccato da tutto e tutti, anche da Filippa. Non capivo più niente ha aggiunto Bossari in confessionale Un racconto decisamente molto drammatico che in queste ore ha lasciato senza parole tutti i fan del conduttore, i quali però si sentono ancora più vicini a lui dopo questa confessione che ha deciso di fare in diretta televisiva al GF VIP Il dramma segreto di Daiele Bossari Un segreto che Daniele fino a questo momento aveva preferito tenere per sé ma adesso, dopo la bellissima sorpresa che gli è stata fatta da Filippa Lagerbach e dopo la proposta di matrimonio fatta lunedì sera in diretta tv, Bossari ha avuto il coraggio di confessare tutto e lo ha fatto senza alcun tipo di esitazioni Un periodo molto difficile per il conduttore che stava per mettere in discussione anche il suo rapporto con la bella Filippa Lagerbach, la quale però nonostante tutto ha deciso di non lasciarlo da solo ed è stata comunque al suo fianco, pronta a sostenerlo e ad affrontare insieme questa dura sfida che tuttavia, alla fine, ha rafforzato ancora di più il loro sentimento Cancelletto Uomini e Donne News Cancelletto Uomini e Donne Cancelletto Uomini e Donne